Si chiude la campagna elettorale per le elezioni amministrative che domenica 3 e lunedì 4 ottobre porteranno 180.000 cittadini marchigiani alle urne per eleggere i sindaci di 28 comuni, nei quali quindi verranno confermate o cambiate le amministrazioni e i primi cittadini. Nel Pesarese sono sette i territori ad essere chiamati al voto. Nel quarto comune più popoloso della provincia, ovvero quello di Mondolfo, l'attuale sindaco Nicola Barbieri concorre per il bis con la lista Fare Città e sarà sfidato da Anteo Bonacorsi, che con la lista futura ha raggruppato gran parte delle forze di centro-sinistra. Sfida aperta anche a Fossombrone, dove il sindaco Gabriele Bonci, che ha deciso di non ricandidarsi, sostiene la corsa dell'attuale assessore Gloria May. La candidata pentastellata dovrà fronteggiare altri tre sfidanti, l'imprenditore Massimo Berloni, la consigliera comunale di minoranza uscente Elisa Cipriani e l'ex primo cittadino di Sant'Ippolito e segretario col diretti Fabio Londei. Si vota anche a Fermignano, dove la candidata Delfina Betonica lancia il guanto di sfida all'attuale amministrazione guidata da Emanuele Feduzzi. A Colli al Metauro, le urne sono chiamate con un anno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. La poltrona di sindaco, lasciata anzitempo da Stefano Guzzi, diventato assessore regionale, sarà ambita dalla lista Energie in Comune dell'ex presidente della comunità montana del Metauro, Candio Curina e da Pietro Briganti, della lista Insieme per crescere. Lotta a due anche a Mondavio, dove a sfidare l'attuale primo cittadino Mirko Zenobi della lista per un futuro comune, è il candidato della lista Mondavio-Città Nuova, Girolamo Martino. La partita degli ultimi due comuni sarà contro l'affluenza. Sia Gradara che Mercatino Conca, infatti, i sindaci uscenti, Filippo Gasperi e Omar Lavanna, guidano le uniche due liste che si sono presentate all'appuntamento elettorale. Per ottenere la riconferma delle attuali amministrazioni, dovranno recarsi alle urne almeno il 40% più 1 degli aventi diritto al voto. Se in caso contrario il quorum non fosse raggiunto, le elezioni sarebbero annullate e ai comuni di Gradara e Mercatino Conca verrebbe assegnato un commissario prefettizio. Tutti i territori della provincia pesarese chiamati alle urne raccolgono una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e dunque non ci saranno ballottaggi. Domenica 3 i seggi saranno aperti dalle 7 di mattina fino alle 23, mentre lunedì 4 ottobre i cittadini potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 15.